Il capitano di un Rovigo vincente, però una partita molto faticosa contro il pack di Medici e Firenze. Firenze è anche disciplinato, efficace nel contrastarvi. Com'è stata la sfida dei primi otto? Allora, io penso che il primo tempo non c'è con le partite, perché forse pensare è un po' più facile e Firenze arrivo qua, voglio giocare anche con i avanti e poi il secondo tempo non è cambiato un po' perché loro con i mischi hanno fatto bene, perché anche c'è un infortuno e loro hanno cambiato, ma loro hanno fatto bene il primo tempo con i avanti. Bene, allora, qualche giocatore infortunato nella mischia di Rovigo, ma mi sembra che rimessa laterale, mischia ordinata, moll, tutto bene oggi? Sì, 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 non ho fatto come noi giocare, con i avanti, con i moll, segna tre metà così, manca un po' di mischia più vicino per metà tecnica, ma ho fatto bene il secondo tempo, il primo tempo bisogna lavorare di più. Nell'intervallo vi è arrivata la notizia di Roma, Cavisano ha perso, cosa vi siete detti? Allora, noi dentro il secondo tempo ho sentito che Cavisano ha perso e tutti i giocatori hanno cambiato la mentalità per giocare, perché noi abbiamo bisogno di 4 metri per il bonus point e poi tutti i giocatori hanno detto adesso giocare, adesso noi devi giocare e io sono contento, loro hanno cambiato la personalità e hanno giocato, non ho fatto bene così. Ma adesso sabato a Padova è quasi finale? Sì, secondo me è finale, anche per noi, sempre come noi preparati per partita, ma contro Padova è prima finale per noi. Cosa vuoi dire ai tifosi? Grazie a tutti i tifosi, secondo me i tifosi migliori in Italia sono Arvigo e loro sono i migliori.